La pandemia ferma lo svolgimento della manifestazione delle stelle di Natale nelle piazze, ma l'AIL non si ferma e rafforza il suo impegno per il territorio semplicemente cambiando le modalità di incontro con i sostenitori. Nulla ferma chi vuole compiere un gesto dal valore inestimabile per sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettendo in atto l'assistenza sanitaria necessaria a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari e sensibilizza l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche. Le stelle di Natale non saranno in piazza, ma i cittadini potranno recarsi nella sede AIL di via Lauro Grotto a Salerno per acquistare la stella e altri gadget. Hanno aderito anche diversi altri punti solidali. Quest'anno le stelle di Natale dell'AIL non scenderanno in piazza insieme a noi volontari, ma saranno distribuite attraverso una rete solidale, una rete solidale composta dai negozi solidali così come li abbiamo definiti, perché ogni malato di riocemia ha la sua buona stella e devo dire che durante queste manifestazioni il contributo dei milioni e milioni di sostenitori che abbiamo negli anni si vede soprattutto quando abbiamo lanciato l'appello dell'AIL ad ospitare le nostre stelline e tantissimi negozi hanno deciso di ospitarle. Saranno distribuite in diversi negozi di Salerno e provincia, a partire dalle farmacie, dalle parefarmacie, da negozi di acconciatori, sportivi, negozi di abbigliamento, anche Fiorai. Quindi devo dire un grazie sentito perché è molto importante, visto che la pandemia ha fermato tantissime nostre abitudini, ma non ferma la solidarietà e soprattutto non ferma la lotta alle leucemie, linfomia e mieloma, perché in questo momento le malattie del sangue non si sono fermate, i nostri pazienti stanno lottando e purtroppo anche da soli nei reparti. Pertanto è importante farli sentire non soli, noi ci siamo e grazie alla stella di Natale dell'AIL speriamo che possiamo colorare un po' questo Natale che di certo non ha i colori degli anni scorsi.